Il libro è di Reinhold Messner che 50 anni fa aveva scritto un articolo con questo stesso titolo L'assassinio dell'impossibile Il tema è che per salvare l'avventura nell'alpinismo ma anche nell'avventura semplice bisogna rinunciare alla tecnologia all'evoluzione della tecnologia e questo tema si è visto adesso e 50 anni dopo è ancora attuale Il tema è che per salvare l'avventura è che per salvare l'avventura bisogna rinunciare alla tecnologia e vediamo che 50 anni di inseguire quello che voleva anche soffrendo e l'abbiamo visto soffrire fisicamente Dopo l'incidente che ha avuto quando lo hanno tirato sotto con la macchina lui aveva ancora il dolore e le gambe già si allenava anche con il dolore per poter tornare sulle sue montagne Abbiamo visto la città, inoltre la città, inoltre la città ία di molniti болi, here città e il città, il città da torna e s'estri per la città grazie